Sì, sì sì sì, lo è stato, lo è stato. Ok, scusate ragazzi, benvenuti su Castium Drums, eccetera eccetera eccetera. Oggi avete visto il titolo, avete visto le cose, siete già incavolati, lo so, tutto quanto, ma non tutti la pensano come me. Io ho voluto dirvelo subito. Ho voluto dirvi subito che secondo me Joey Jordison è stato un fenomeno pazzesco. Ho deciso di fare questo video per farvi capire il perché lo è stato per me. Poi, con questo non voglio dire che lo sia stato a livello oggettivo, ma soggettivamente per quanto mi riguarda è stato assolutamente un fenomeno e appunto oggi vi voglio spiegare il perché. Volevo un po' mettere le mani avanti perché sennò poi mi dite, eh no ma Luca ma stai dicendo che Joey Jordison è stato un... No, non lo sto dicendo, assolutamente. Però ovviamente qualcuno lo dice e qualcuno no. Quindi ho voluto scrivere questo titolo anche per dire ok, rispetto tutti, rispetto quelli che dicono la verità e quelli che non dicono la verità. Vabbè, detto questo, facciamo così. Oggi per l'occasione mi sono fatto mandare da strumentimusicali.net il rullante di Joey Jordison che non ha più scritta la S di Slipknot perché ovviamente non era più negli Slipknot ma comunque è il suo rullante. Guardatelo qua, voglio provare a vedere come funziona. Sicuramente la problema con il dire da quando parlo ce l'ha anche questo rullante ovviamente. E basta. Mando la sigla e poi vi parlo un po' e partiamo con i pezzi degli Slipknot. Oggi vi faccio vedere quattro pezzi degli Slipknot. Quattro cose che mi sono veramente piaciute tanto di Joey Jordison all'interno dei pezzi degli Slipknot. Andiamo. No, stiamo qua. Poi andiamo dopo. Ma intanto faccio partire la sigla. Oggi ho fatto un po' di casino con tutta sta roba che ho fatto. Vabbè, sigla. Allora, come vi dicevo, per prima cosa non l'ho detto prima, voglio ringraziare strumentimusicali.net per avermi mandato queste due scatole, una con scritto strumentimusicali.net e una con scritto niente, perché sempre strumentimusicali.net lo scotch, ma questa è la scatola in cui c'era il rullante di Joey Jordison, come potete leggere, JJ arriva da Pearl, ovviamente, sì, perché è un Pearl, è un Pearl in acciaio da 16, no, è un Pearl in acciaio da 14 per 6 e mezzo all'ora. Dopo questo non guarderete mai più un mio video, perché non riesco a parlare. Comunque, detto questo, eccolo qua. Questo qua è un rullante che va veramente bene per fare metal, per fare rock, ma anche per fare altro, dopo ve ne parlo bene. Quindi, come vi ho detto prima, voglio farvi vedere 4 pezzi degli slipknot, è vero, Joey Jordison alla fine non era più negli slipknot, ma chi se ne frega, io ho ascoltato gli slipknot quando c'era Joey Jordison, mi ha lasciato veramente tantissimo Joey, anche se non si direbbe perché io non sono un metallaro, non sono bravo col doppio pedale, eccetera, ma lo ascoltavo veramente tantissimo, era un mio idolo pazzesco e ho preso tantissimo da lui, quindi vi voglio far vedere alcune cose che più mi sono piaciute e che più mi sono portato nel tempo, diciamo, anche facendo altri generi, eccetera, eccetera. Quindi, basta, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare la campanella, mai più detto campanella. Andiamo va, andiamo alla batteria. Eccoci qua, siete venuti alla batteria, voglio partire da un pezzo famosissimo degli slipknot, e poi, vabbè, i pezzi che vedremo oggi sono tutti pezzi di slipknot molto famosi, ma questo qui, che si chiama People You Are Shit, è un pezzo che ha registrato e suonato tantissimo Joey Jordison, che è molto particolare, il pezzo in questione è quello subito dopo l'intro, in cui fa questa cosa qua, questo ritmo qua sul crash e con cassa e rullante, ovviamente. In pratica, questo è un ritmo molto particolare perché, vabbè, per prima cosa a me piacciono molto questi ritmi con tupa tu tupa, dove c'è questa cosa qua, e Joey ne fa un sacco, infatti dopo ne vedremo un altro, ancora più difficile di questo, ma con questa concezione qua. La cosa molto bella, secondo me, è che per prima cosa con questo rullante, che vi voglio far vedere oggi, abbiamo veramente l'attacco giusto. Sentite quanto attacco a questo rullante e soprattutto la sensibilità di questo rullante, appena lo sfioriamo, abbiamo subito quel suono lì e nel momento in cui facciamo il rimshot riusciamo ad avere quella botta che ci serve. In pratica, Joey ha fatto un rullante, uno in paradiddle. Perché? Pensate al paradiddle. Spostiamo la destra sul charlison. Adesso proviamo a fare la destra con la cassa e la sinistra con la nostra mano sinistra. Sentite il groove? Quindi in pratica qua ha fatto un paradiddle all'inizio, fermandosi sulla cassa per tre volte. Mentre la quarta volta fa tutto il paradiddle e poi ricomincia da capo. Avete tutto nel pdf. Secondo brano di Jay Jordan e degli Slipknot, Ailes, Ailes si dice in inglese, Ailes, 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 Ailes. Non farò finta di sapere bene l'inglese rifacendo questo pezzo di video, la lascerò così. Questo, voglio farvi vedere proprio l'intro, l'intro, l'intro. Dopo che lui fa il crescendo con il crash, fa una cosa, non voglio farvi tutta l'intro, ma voglio farvi un pezzettino che è quello che mi piace di più. Fa questa cosa qua. Questa è una roba fighissima, ve la faccio lentamente e poi vi spiego un po' di cose. Ovviamente con il doppio pedale viene meglio, io non uso mai il doppio pedale, quindi la faccio col pedale singolo, ma in pratica, allora, qui per prima cosa, chi ascolta la versione live, chi ascolta la versione in studio, potrebbero esserci un po' di differenze, però di base ci sono due colpi di crash, io parlo principalmente della versione live, lui fa due colpi di crash, il secondo, con il rullante. Poi c'è, ta ta ta, tre colpi di rullante, rullante tom 2, tre colpi di rullante. Poi, cassa, in trentaduesimi, veloce, subito dopo i tre colpi di rullante e infine, oppure, quello che volete. La cosa più difficile qua sono i due colpi di cassa, quindi se avete un doppio pedale, utilizzatelo, basta che fate destra-sinistra e avete fatto il doppio colpo, lo potete fare veloce quanto volete. A me in realtà questo piace, non tanto per la difficoltà, sì, è abbastanza difficile da fare, ma più che altro perché, secondo me, ha una musicalità e un'idea fighissima. Cioè, a chi viene in mente di fare questa cosa? Secondo me è fighissimo, ragazzi, secondo me è fighissimo. E qui mi prendo solo un attimino di spazio a parlarvi del rullante, vi dico tre cose, perché, come avete sentito, questo rullante qua da 13x6,5, un 13x6,5 in acciaio, completamente nero, questo penso l'aveste già visto, ma comunque ho deciso di dirvelo lo stesso. Adesso tolgo un attimo questo pelo e, in pratica, la figata di questo rullante è che, allora, ovviamente rullante DJ Jordison e quindi si pensa subito metal, metal, metal. In realtà, essendo un rullante piccolo, può essere utilizzato benissimo anche per altri generi o per altre modalità, diciamo. Se io uso questo come secondo rullante, lo posso utilizzare tranquillamente. Tra l'altro, devo dire che una volta aveva lo stemma proprio degli slipknot, il rullante, e quindi magari andare a fare un altro genere, portarsi il rullante degli slipknot, pareva un po' brutto, diciamo così, perché aveva proprio la S bella grossa. Adesso non ce l'ha più, ha scritto, ovviamente, Joey Jordison, eccetera, però quindi possiamo osarci a portarlo ovunque. Il rullante è molto bello perché questo nero satinato, diciamo, è veramente molto carino e la figata, secondo me, di questo rullo è che esce sempre. Il rullo da 13x6,5 soprattutto, ha una bella profondità. Poi, tirato in questo modo qua, ha anche tanto, tanto rimbalzo. E poi, raga, fare queste cose qui è perfetto. Cioè, se dovete avere un rullante che spinge, nel senso che esce tanto, così come aveva bisogno Joey Jordison, il rullante 13x6,5, soprattutto questo rullante qua, secondo me, è perfetto. Se avete bisogno di un altro rullante, magari da posizionarvi a sinistra se siete destri, a destra se siete mancini, questo è molto interessante se avete bisogno, appunto, di uno step in più di volume e di presenza del rullante. Magari anche per fare, che ne so, drum and bass. Sentite, funziona subito bene, non ne ho neanche cambiato accordatura. Comunque, finita questa parentesi, andiamo al pezzo successivo. Voglio parlarvi del crescendo di Psychosocial, praticamente quasi all'inizio del brano, subito dopo l'inizio, fa un crescendo molto figo con il rullante e con la cassa, che è questo qua, ve lo faccio sentire. Ve lo suono lento, poi ve lo spiego. Allora, qui abbiamo un crescendo tipo questo, che sono sedicesimi e cassa in quattro, in quarti. Ma, allora, due cose. Per prima cosa, lui comunque mantiene l'accento, secondo me, sul rimshot ogni quattro. Sentite, c'è un accento che fa, dà un pochettino di dinamica a quel crescendo in più, essendo un crescendo. E poi all'inizio c'è una terzina di sedicesimi. Ogni battuta, praticamente, c'è una terzina fatta destra, destra, sinistra. Poi potete farla anche destra, sinistra, sinistra, ma a me non è comodo. Alla fine abbiamo una sestina composta da Linear 6. Ci sono un sacco di Linear fatti da J. Jordison. Tra l'altro ho fatto anche un corso sui Linear, quindi ve lo lascio qui sotto in descrizione, nel caso vi interessasse un corso che parte da zero e arriva a mille con i Linear. Detto questo, il fill è questo qua. Ovviamente, attenzione nel momento in cui lo ascoltate, che nella prima parte c'è il rullante di J. Jordison normale che fa... Poi più o meno da questo punto qua parte il trigger, credo sia un trigger, che ovviamente va a sommare il suo rullante con un altro e quindi diventa un rullante enorme e soprattutto che ti arriva in faccia così. Però diciamo che anche fatto col rullante di J. Jordison e basta, arriva abbastanza in faccia. Anche questo lo trovate in descrizione nel PDF gratuito. Andate a scaricarlo. Quarto e ultimo brano, la strofa di Duality. È una bomba pazzesca, perché ha di nuovo casserullante come li avevamo nel primo brano. Ve lo faccio sentire, poi ne parliamo. E ovviamente questo è bello tosto soprattutto per la gamba forte che deve andare, se suoniamo con il pedale singolo, deve andare a fare patutupatutupà, questa cosa qua, che è bellissima, secondo me, vi migliora tantissimo, veramente tantissimo, il piede destro. Quindi non fate quelli che lo fanno solo col doppio pedale, provateci anche a farlo col pedale singolo. Partite lenti, lento il groove è questo. E non abbiate paura a farlo ancora più lento. Perché tanto lento ci migliora tantissimo il controllo. Quindi, questo non sto a spiegarvi casserullante, 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 ma vi dico solo che sono molto simili i due groove che si ripetono e poi ripetiamo più o meno il secondo. C'è solo questo che ha tre colpi di rullante in fondo che nel pdf ce li avete segnati come tre colpi di rullante forte, ma in realtà se riuscite fateli salire. Sentite che non sono ma sono un po' salenti, diciamo così. Quindi, questo. Avete comunque il pdf scaricabile in descrizione. Adesso con questo feel molto alla Joey Jordison vi saluto e ci vediamo di nuovo là. Andiamo e torniamo là, dai. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Spero di avervi dato qualche informazione in più, qualche spunto in più, più che altro, per quanto riguarda Joey Jordison e il suo modo di suonare. devo dire che se avete idea di suonare gli slip, se avete idea di suonare metal, il rullante di Joey Jordison è veramente, veramente tanto. Cioè, è proprio tanto potente, tanto sensibile e più che altro ha un volume, ha questa potenza che è veramente una bomba, soprattutto se si porta su una frequenza abbastanza alta o comunque medio-alte esce veramente tanto e è una figata. Quindi, grazie mille ancora strumentimusicali.net È già un po' che apro le scatole dalla parte giusta. Devo smetterla. Prima le aprivo sempre così era più bello, era più divertente. Grazie mille per avermi mandato questo rullante. Ah! Ecco, una cosa che mi sono dimenticato. Nel video scorso, in qualche, no, due video fa vi avevo chiesto che era questo il pacco di due video fa. Quindi, era questo il pacco che avevo preso a caso c'era un rullante dentro e vi ho detto ditemi di chi è secondo voi questo rullante e fatemi sapere adesso nei commenti se avrevate indovinato di chi era il rullante che c'era qui dentro. Comunque, detto questo, ragazzi, basta. Io vi saluto qua, ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi di iscrivervi al canale. Mi raccomando, vi vedo che non siete iscritti. Non tutti, ovviamente, ma tanti guardano i miei video e non si iscrivono. Se vi piace come spiego e tutto quanto c'è il link per la mia scuola online qui sotto e basta. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.